Ben trovati al TG Sordi di Lecce 7. Maxi Blitz antimafia a Casarano. Sono 13 le persone arrestate dai carabinieri su disposizione della DDA per associazione a delinquere. Tra i nomi compare anche quello di Antonio Amina Fendi, il 33enne, ucciso in strada pochi giorni prima. Case vacanza affittate a nero, nuove scoperte della Guardia di Finanza, verifiche fiscali sulla locazione turistica di immobili a Porto Cesario, Ugento. Torre Lapillo, Torre San Giovanni, Torre Mozza e Lido Marini. E vase tasse per circa 110.000 euro. Struncato da un malore mentre era alla guida a perdere la vita è stato il 57enne Sergio Rutigliano, ex sotto ufficiale dell'esercito, in pensione. Chi è andato a sbattere contro il muro di cinta di un'abitazione alla periferia di Nardò. In fiamme il chilometro zero, distrutto il chiosco bar sull'itolare Ionico, metà di giovani soprattutto durante il periodo estivo. L'incendio in località Lareggia, la condanna del sindaco di Galatone, Flavio Filoni. Bimba nasce in volo aereo a terra all'aeroporto del Salento. La madre ha partorito a sette mesi sul volo a Man Londra. Entrambe sono state trasportate in ospedale e stanno bene. E Luca Gotti, il nuovo allenatore del Lecce dopo l'esonero di Roberto D'Averza. La decisione è stata presa nelle ore successive al termine della partita salvezza persa contro il Verona per 1-0. D'Averza si è reso responsabile di un gesto violento nei confronti di un giocatore avversario. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.